Secondi al complicamento dell'intrazione E questo è 99 però Oh ma perché è sempre il più piccolo Devono No Oh non muore Oh non muore proprio Oh non muore Porco giù dove moriva Quante volte si è rianimato quello Oh ste Ma quello Io ho visto Ma quello lì che non muore Viva Sto ricchione che No